buongiorno benvenuti nel mio nuovo canale dedicato alla psicologia in questo video parleremo di psicologia del maschile e del femminile siamo tutti d'accordo sull'assunto che l'uomo e la donna si integrino a vicenda si integrino in realtà però ogni essere normale è in misura maggiore o minore un'ermafrodita psicologico nel quale cioè si associano elementi psicologici maschili e femminili in altri termini gli uomini e le donne posseggono tutte le qualità che costituiscono la personalità umana e allora diventa evidente che ci sono delle differenze tra i sessi si dice per esempio che gli uomini dicano cose satte e si dice che le donne dicano la verità si dice che l'uomo ha l'onore e che la donna abbia la dignità e ancora si dice ciò che il sesso è per la donna il lavoro è per l'uomo e si dice ancora l'uomo non vive nella sua casa ma semplicemente vi alloggia mentre la donna e la casa sono la stessa cosa poi c'è un'altra frase che si dice le donne sono più sensibili al bacio ma vediamo di ricucire tutte queste frasi in un unico quadro coerente generale una volta sentì dire ad una donna io non rifletto sui problemi li vivo li vivo questa frase getta un po di luce sulla nostra ricerca e suggerisce qualcosa vale dire probabilmente la matrice da cui trae origine il carattere femminile la psicologia del femminile è la funzione di procreatrice della donna ovvero la funzione di creare di conservare cioè quella di generare un figlio di conseguenza tutti quei tratti tratti psicologici che derivano da questa funzione possono essere considerati essenziali mi spiego la donna non vive al di fuori delle cose non viene a contatto con le cose soltanto quando le cose le vengono incontro ma una donna è immediatamente intimamente necessariamente una con tutte le cose esistenti questa unità questo essere dentro e non soltanto con le cose permette alle donne di conoscere queste cose cose in senso di eventi di accadimenti di situazioni e di persone gli inglesi usano molto cose dunque questa unità questo essere dentro alle cose permette alle donne di comprendere le cose attraverso una partecipazione la loro esistenza non soltanto dunque per mezzo della ragione o dell'intelletto ma soprattutto per mezzo dell'intuizione per questo le donne scoprono la giusta via la giusta via in modo semplice scoprono la verità accettando e respingendo immediatamente e interamente una certa situazione una certa persona una certa cosa facciamo degli esempi e opinione comune che le donne non abbiano mai prodotto un vero e proprio genio in realtà però il genio di tipo maschile è una rara eccezione mentre la forma femminile del genio è proprio di ogni donna è proprio delle donne infatti l'unione con la natura la percezione istintiva delle leggi naturali sono proprio l'essenza del genio cioè della donna ma questa verità questa essenza questa verità estratta dal profondo della propria esistenza di donna non è una verità scientifica raggiunta attraverso un faticoso lavoro di ricerca no ma è una verità rivelata la logica femminile è una logica fondata sulle leggi intrinseche delle cose le cose così come sono non le cose come vengono pensate perciò quella della donna non è una logica tecnica o astratta come quella maschile che si riduce ad un gruppo di regole sul modo di disporre i pensieri la logica linguistica una logica quella maschile che porti necessariamente da una premessa ad una conclusione quella femminile invece è una logica materiale concreta nelle cose che varia con la natura delle cose alle quali di volta in volta viene applicata naturalmente che varia a seconda delle cose e dalle quali essa sorge e di qui l'assunto che la modalità della donna è più istintiva la moralità delle donne tra l'altro è più essenziale rispetto a quella degli uomini perché perché le leggi che sono leggi non scritte cioè le vere leggi delle cose sono incastonate nel cuore di ogni donna e a queste leggi la donna aderisce rigidamente cioè senza compromessi per cui si potrebbe parlare di dignità della donna come elemento inalienabile indistruttibile e indistruttibile e si potrebbe parlare di onore onore come valore artificiale e quindi creato dalla società per quanto riguarda appunto l'uomo e qui sta un punto importante di differenza la differenza tra il modo maschile di concepire il sesso che si riduce sostanzialmente ad una differenza tra la moralità artificiale dell'uomo artificiale e la moralità naturale della donna pertanto si impone nella donna un dovere questo dovere pone alla donna un imperativo irresistibile perché proviene dalle profondità della sua esistenza cioè dalla sua unità con le cose e questo è il dovere di vivere i problemi attraverso un processo di identificazione di identità con queste cose identificazione e questo significa che le donne non stanno con le cose non stanno al fianco degli uomini ma stanno nelle cose fanno parte di un tutto che comprende in sé ogni cosa e questa unione il loro modo di essere non a caso le donne dicono sempre io non rifletto sui problemi li vivo li vivo e a questo riguardo potremmo dire che la logica delle donne esiste fin da principio mentre gli uomini si debbono addestrare si debbono addestrare a diventare logici e quindi possiamo concludere che le donne sono creature che esistono gli uomini sono creature che agiscono agiscono perché interpretano oggettivizzano la realtà alienando da se stessi questa realtà e infatti gli uomini pongono valori valori di riferimento in questa ottica si possono si possono spiegare i disagi delle donne nella nostra società che è prettamente maschile cioè ricca di valori artificiali artificiali bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete scrivermi un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza specificando il vostro nome cognome e i vostri orari preferiti vi invito a visitare il canale youtube dove troverete centi migliaia non so quanti sono sono 700 forse di video e vi invito a visitare anche il mio gruppo su facebook ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia ho scritto quattro libri che si trovano soltanto su amazon uno dei quali si intitola proprio come sedurre strategie e tecniche della seduzione e sono partito proprio da questo libro per fare il video che avete appena visto buona giornata